Luca, avete perso contro una squadra così tanto debole, quella di Fabrizio. Perché? Perché avevamo la porta della maglietta viola, avevamo la porta sotto mira e poi abbiamo sbagliato che c'era per la prossima volta e poi... Allora, il portiere era Fabrizio. Perché non avete fatto il gol contro di lui? Perché era proprio scarso, quello ti vuole dire, Fabrizio. Perché essendo scarso volevamo fargli sempre gol e poi... e poi... boh. Dovevate? Se facevate qualche gol in più potevate vincere, non che l'avete lasciato vincere. Bene, avevamo la speranza ma poi gli abbiamo lasciato i viti. Perché siamo bravi. L'altro capitano dice che non li avete lasciati vincere, perché hanno vinto solo perché avevano Fabio. A parte Fabio, avevano anche Nico e hanno vinto. Ok. Però, la squadra migliore, secondo lei, qual è? La nostra. No, la mia. Ovviamente, vero Marci? Ma in che serie siete? Perché Fabrizio è super scarso. Non esiste in serie A o in serie B? A. Ok. Un applauso a Marco. Pic top. Linea allo studio. Buon appetito. Buon appetito.